Ciao, sono Sam di Idee Giovani per la rubrica C'è Tempo di Carta Carbone Festival. Oggi vi consiglio un libro, un film, una canzone riguardanti il tema dell'assedio. Il libro è I tamburi della pioggia di Ismael Kadaret. È un libro che ci parla della storica ed eroica resistenza del popolo albanese durante l'invasione ottomana. Ma non è soltanto un libro di guerra, è un libro che ci parla di rapporti umani durante un'attesa, un'attesa estenuante che è quella della pioggia, l'unica cosa che potrà salvare il popolo albanese. Mentre il film che voglio consigliarvi è Zombie o Down of the Dead di Giorgio Romero. Perché assedio? Perché alcuni esseri umani per scappare dagli zombie si chiuderanno in un centro commerciale e questo verrà sfruttato come espediente narrativo da Giorgio Romero per raccontare e criticare il consumismo degli esseri umani. E ironia della sorte, l'assedio non sarà rotto dagli zombie ma da altri esseri umani, sempre a rimarcare la natura predatoria e consumistica dell'essere umano. Mentre la canzone che voglio consigliarvi è Life During the War Time, dei Tolkien Eats. Una canzone che mischia un tono allegrissimo a un testo cupissimo durante quello che è stato un vero assedio globale, la guerra fredda, che nella mente del cantante era veramente accaduto. E tutte queste opere ci insegnano che alla fine è sempre l'uomo il nemico dell'uomo.